La sicurezza, conoscere e farsi aiutare dal vicino della porta accanto. Sono questi i primi provvisori risultati dell'originale indagine condotta all'interno del progetto Se ti conosco non ti evito, promosso da Centro Nazionale del Volontariato e finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Con l'obiettivo di sensibilizzare al tema della sicurezza e raccogliere i bisogni dei cittadini, il CNV ha infatti allestito un punto itinerante a bordo di un colorato camper che percorrerà quartieri e paesi della Lucchesia. Abbiamo anche un secondo obiettivo, che parte un po' da quello che è il nostro vissuto, la nostra esperienza, di proporre poi agli enti di costituire anche a Lucca, come è già successo in altre zone anche del territorio della provincia, un servizio di mediazione, perché riteniamo che la mediazione possa aiutare la sicurezza, cioè aiutare la a risolvere i conflitti è sicuramente un elemento che pacifica in qualche modo. Al momento, dopo le prime uscite, sono stati compilati anche una decina di questionari specifici sul tema. Più alto invece è il numero di osservazioni scaturite dal contatto dei tre operatori a bordo del camper con gli stessi cittadini. La paura del diverso è sempre insieme a quella del vicino di casa. Abbiamo visto che più si va verso la campagna, in realtà, abbiamo avuto una riprova proprio stamani, ce lo diceva un po' la gente, che là dove sei un po' più lontano dalla zona urbana, la gente ha rapporti diversi col vicinato, sa che si può affidare. Date, luoghi ed eventi sono consultabili tramite il blog del camper sicurezza, ospitato dal portale Blogspot.